Allora siamo al voto disciplina per la squadra avversaria Colors Wear 2 contro One Eagles Da chi cominciamo? Da lui, da lui Ok dai, allora Carletti il voto per la squadra avversaria Ho dato un bel 7, un bel 7 pieno Tutto sommato partita corretta, quindi bravi ragazzi Giust agonismo, quindi ci sta Bene, Ale Vuole 7 Quindi si è contraccambio Si poteva far meglio Dai, fate una sorta di cosa Se si potesse far meglio, ecco, dialogate fra i due leader No, no, io in una squadra nostra si poteva far meglio Però è una bella squadra loro Bene o sì È stata comunque una partita impegnativa Abbiamo tenuto, vabbè, eravamo 5 Pensavamo peso, onestamente Erano anche senza il cambio Però dai, alla fine abbiamo tenuto Bravissimi, bravissimi Bella partita, bravi loro pure Siamo tenuto sulle spine fino all'ultimo secondo Beh, è una vittoria comunque molto sofferta Che non è una squadra facile No, no, sono bravissimo Bene, grazie ragazzi E alla prossima Sì, ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.